Una nuova stagione alle porte, caro direttore, se gestisci un villaggio turistico, bene, questo video fa al caso tuo. Oggi vedremo come gestire la nostra comunicazione social. Ciao a tutti, sono Alessia, bentornati su questo canale e benvenuti in questo nuovo video. Un video che sarà dedicato prettamente ai villaggi turistici e come gestire la loro comunicazione social. Non so se è la prima volta che approdi su questo canale, beh, se lo fai o comunque se ancora non ti sei iscritto, fallo subito, così da non perdere tutti i miei contenuti. E ovviamente non ti dimenticare di attivare le notifiche. Come dicevo prima, oggi ci occupiamo di social, bene, dobbiamo evitare che la pagina social del nostro villaggio, o comunque pagina social, parliamo di Instagram, Facebook, TikTok, quello che sia, diventino un mero catalogo. Quindi compra, offerta 1, offerta 2, offerta 3, offerta 4. Questo non è un modo professionale di gestire social e soprattutto non è il modo più efficace, perché noi vogliamo che poi quel post di vendita, quel post dove fate l'offerta, sia ovviamente, anzi, abbia un ritorno sull'investimento il più alto possibile. Ma se noi facciamo una comunicazione dove puntiamo al compro e compro e basta, non otterremo nulla. Quindi come fare? Come fare a ottenere lo stesso risultato senza fare il post di offerta e basta? Bene, ovviamente le scelte, le opportunità sono davvero tante e oggi ne vediamo alcune. Ci troviamo in quale situazione? Ci troviamo in una situazione in cui l'ospite vuole fondamentalmente delle cose. Vuole rilassarsi, vuole mangiare, non toccare cibo le persone che ti vanno fuori, vuole soprattutto divertirsi. Ultimo, ma non meno importante, le persone vogliono sentirsi anche parte di una community. Ebbene, vediamo, parliamo un pochino di questo relax, come lo possono fare nell'atrostruttura? Magari c'è la spiaggia, c'è il lido, bene, facciamo vedere il nostro lido, come è attrezzato. Non potete immaginare, le persone fanno domande su c'è la sdraio, non c'è la sdraio, c'è il lettino. Bene, come posso trasmettere l'ax? In spiaggia lo posso trasmettere con il risveglio muscolare, però magari quella è una di quelle attività che le possiamo far rientrare nell'animazione. Ma come possono rilassarsi ancora le persone in spiaggia? Leggendo un bel libro, magari voi avete i lettini, fanno una penichella, c'è il bar della spiaggia, perfetto, con un cocktail, bene, io in questo modo mi rilasso. Stessa cosa, posso farlo vedere in piscina o comunque magari tramite qualche attività, anche se a pagamento, che comunque viene offerta dalla vostra struttura. Stessa cosa, vi posso rilassare, magari voi avete un centro benessere, avete una spa, bene, fatemi capire come tutto ciò io lo posso ottenere venendo da voi e soprattutto perché lo devo fare. Stessa cosa, ho cibo, voglio sapere come mi tratterai, cosa mangerò. Ovvio non è che potete fare l'elenco, tutto il menù della stagione, ma cerchiamo di catturare l'attenzione delle persone. Bene, il nostro è a buffet, facciamo vedere il nostro bel buffet, di che cosa trattiamo, se magari riusciamo a gestire eventuali intolleranze, andiamo ovviamente a rispondere già a quelle che sono delle esigenze. Oppure, leggiamo le recensioni, ci sono state delle obiezioni fino adesso, bene, leggiamo queste obiezioni e cerchiamo per questa nuova stagione di andarle a eliminare completamente. Quindi nel momento in cui poi le persone hanno lamentato, che ne so, dei cornetti che non erano abbastanza buoni, bene, già sappiamo che quest'anno dobbiamo intervenire su quei cornetti perché altrimenti continueremo ad avere un pubblico o comunque degli ospiti che saranno insoddisfatti. e quindi facciamo, come dicevo, facciamo vedere il nostro buffet, ma facciamo conoscere anche lo staff che c'è dietro a tutte queste preparazioni. Magari organizziamo una serata tipica, bene, la dobbiamo promuovere. Quindi andiamo dalla colazione ai pranzi alle cene, però fare in modo di esaltare quelli che sono i passi della nostra struttura. Addirittura una volta mi è capitato che venissero utilizzate delle immagini che non erano di stock, erano proprio le prime prese su Google per caso con sfondo bianco, che poi si vedeva che erano delle cose messe insieme e fatto pure male. Così voi il pranzo, comunque il buffet, la pensione completa, difficilmente la venderete. Un'altra cosa, voi andate a puntare su ciò che attira le persone. Bene, avete le bevande incluse ai pasti? Perfetto, diciamo. Queste sono tutte cose che poi andranno ad aumentare il valore percepito dell'offerta che voi andrete a fare successivamente. Ma passiamo all'animazione. L'animazione di solito, in quanto abbiamo una situazione tipo che o l'animazione è della struttura, oppure abbiamo una ditta esterna che si occupa di fornire tutto il servizio di animazione per il villaggio. Quindi che situazioni si vanno a creare? Nella prima abbiamo il capovillaggio, il capo animatore, quello che sia, che prende le reddini di tutto, tendenzialmente ha anche un personal brand che cerca di emergere. E poi cerca di lavorare per la struttura creando dei contenuti. Nell'altro caso invece abbiamo invece poi un'azienda dove gli animatori creano i contenuti per quella stessa azienda e il villaggio ne rimane quasi fuori. A volte mi è capitato di villaggi che, avendo questa situazione qui, poi nelle loro pagine social dell'animazione non ne parlavano o per niente. Ma questo è uno degli aspetti carni. Io voglio venire al villaggio perché sto cercando un certo tipo di vacanza e allo stesso tempo voglio sapere come mi andrà a intrattenere. Ora perché vi ho fatto proprio questo esempio e vi ho fatto capire queste differenze? Perché in uno o nell'altro caso comunque si andrà a creare un problema di comunicazione nostro del villaggio. Come dicevo nel secondo caso tendenzialmente fa la comunicazione tutta l'azienda dell'animazione e quindi noi villaggio non facciamo nulla e invece no. Bisogna creare comunque o dei post in collaborazione o comunque l'animatore qualcosa ve la deve produrre. Perché anche voi stessi vi dovete vendere quell'animazione e quanto le persone siano soddisfatte. Perché nel momento in cui vengono a cercare delle informazioni su di voi vedranno che effettivamente da voi ci si diverte. Ma non potete dare per scontato che loro vadano a finire sulla pagina di quell'azienda. Perché ad esempio io una volta andai in un villaggio e conobbi per la prima volta un'azienda di animazione. Solo loro si occupavano della comunicazione. Poi tutto il resto non veniva fatto online. Tornando al discorso invece quando l'animazione invece è proprietaria. Bene, lì succede un altro discorso, quello che vi ho detto prima. C'è il capo animatore che cosa fa? Si occupa del suo personal brand. Bene, io l'anno scorso mi sono trovata nella situazione di dover dire al capo animatore vedi che io non mi occupo del tuo personal brand. A me interessano che i video devono arrivare a me perché io li devo pubblicare come azienda. Eh ma io ottengo più like. È grazie che tu otteni più like. Tu sei quello che li fa divertire e vi fate la foto insieme. È mo' il giocaperitivo, è mo' lo spettacolo, è mo' il gadget eccetera. No, io rappresento l'azienda, l'azienda che chiede soldi per quel soggiorno. L'azienda che magari c'è qualche problema e quindi voi siete quelli che il problema lo state facendo dimenticare. Quindi io me lo devo gestire. È ovvio, il rapporto è diverso. Tu come animatore avrai sempre più like rispetto al villaggio in sé. Quindi ma questa cosa non vi deve scoraggiare. Anzi dovete pretendere comunque da un animatore quelli che sono i contenuti perché anche voi li dovete pubblicare. E poi le persone anche lì andrete a rispondere a quelle che sono già delle obiezioni. E se è brutto tempo che fa? Ci si diverte lo stesso? Certo, crediamo dei contenuti ad hoc per spiegare questa cosa. Ma se io prenoto a settembre l'animazione ci sarà? Voi andate a prevenire queste domande perché già lo scrivete, già lo dite. Quanto durerà l'animazione durante la vostra stagione? Tutte informazioni che noi andiamo a raccogliere e andiamo a rispondere poi a quelle che sono le obiezioni di una persona che è indecisa ancora se prenotare o meno. Noi la spingiamo sempre più verso la prenotazione. Infine una cosa che non dovete assolutamente sottovalutare è il fatto che le persone in un villaggio vogliono sentirsi parte di una community. Rispetto a un hotel il modo in cui si vive un villaggio è completamente diverso. Vi ho fatto un esempio prima con gli animatori dove con l'animatore comunque si crea un rapporto, si crea un legame. E calcolate che normalmente quando si tratta di villaggi l'animazione funziona, le persone ci tengono a mettere tutti i nomi degli animatori che li hanno fatti divertire all'interno della recensione. Magari del receptionist manco si ricordano se aveva gli occhiali o meno. Quindi che cosa dobbiamo andare a fare? Questa community noi la dobbiamo far crescere proprio sui social. Quindi cercare di ripubblicare le foto dei nostri ospiti. Perché? Perché ci fanno social proof. Fondamentalmente come funziona? Loro vanno a essere la nostra testimonianza online di quanto le altre persone si siano già trovate bene con noi. Ma allo stesso tempo vogliono ritrovare i volti familiari. Nel momento in cui c'è un animatore che li ha fatti particolarmente divertire bene, fatelo vedere questo animatore. Se ci sono state delle ragazze o comunque ragazzi che sono occupati del mini club e quindi i genitori sono tornati a casa felici perché i figli erano felici, perché voi avete tenuto i marmocchi, quindi anche i genitori sono tornati a casa ancora più rilassati. Bene, fate rivedere quei volti. Fate tutto questo lavoro che io vi ho detto e vedrete come nel momento in cui voi andrete a pubblicare quel post di offerta bene, quel post funzionerà dieci volte di più. Stessa cosa nel momento in cui state facendo la sponsorizzata e magari il caso di utilizzare un carosello dove fate vedere i diversi aspetti, diversi momenti di vita del vostro villaggio e infine ecco l'offerta che io ti sto proponendo. Adesso ho mai più. Come vedete possiamo vendere lo stesso servizio, lo stesso pacchetto in tanti modi differenti. Prendendo quelli che sono i vari servizi della nostra struttura per poi rivenderli e sponsorizzarli al meglio sui social. Io come sempre spero che questo video sia stato di aiuto. Se non vuoi perderne altri ovviamente iscriviti subito al canale attivando le notifiche. Intanto io ti aspetto nel prossimo video. Besos!